Troverò me stessa qui? Sì, è qui che sei, Maya. Tela bianca. Crea e dipingi. Che cosa? Quello che senti. In questo momento sono arrabbiata. Bene, con chi sei arrabbiata? Con te. D'accordo, beh, son ha litigato con mio padre prima di capire chi fosse. Ma noi saremo più mature di loro, vero? Ero una bambina e sono entrata da una finestra perché avevo sentito cantare. Ero attratta da qualcosa all'interno. Una persona sicura. Ero io. Quel piccolo raggio di sole non aveva preoccupazioni. Aveva tutto. Pranzi di famiglia intorno a un tavolo. Anch'io lo volevo. Come va, Maya? Fantastico, papà. Tu lo avevi. Andavi a letto sorridendo mentre io mi chiedevo se mio padre sarebbe tornato la mattina seguente. Io volevo quello. Io volevo quello che avevi tu. Ogni giorno una nuova avventura. Ribellarsi ai compiti. Andare di nascosto alle feste. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Ho fatto il mio compito. Eccoti qui. Che fin ha fatto il viola? No, il viola no. Anch'io ho fatto il mio compito. No, hai permesso che diventassi come te. Perché? Perché volevo che stessimo sempre insieme? Perché? Perché volevo che fossi mia sorella, non che fossi me. Io sono me stessa, lo sono sempre, Maya. Ho bisogno di te. Torna come eri prima. A volte amo dipingere nella tranquillità. Sapete qual è il posto più tranquillo? La mia aula nel cuore della notte. Come ho fatto a sbagliarmi così tanto? La vera ispirazione non ha orario. Un vero artista lo sa. Ho cercato di fermarla. Sono una brava ragazza. Lei ha una pessima influenza su di me. Che abbiamo qui? Ehi, accidenti. Guarda un po'. Sei stata tu? È opera tua? Sì, è quello che sono. Beh, io vedo rabbia, oscurità, tradimento. Una voce distinta. Mi piacerebbe lavorare con te, signorina Hart. Ora sono completa. Quasi. Lo sai perché? La ascolto. A causa di questo. Lo vedi? In tutto il caos hai protetto quella piccola zona. Cosa ci vede? Vedo speranza. Vedo una voce unica che ha imparato ad apprezzare l'influenza della speranza. Cerca di non perderla. Non lo farò. E chi ha dipinto questo? Mi scusi. Non occorre. È il miglior gatto viola che io abbia mai visto. Non potevi fare di meglio. Perché non provi con qualcos'altro? Non scherzi. Beh, mi aspetto grandi cose, Maya Hart. Anch'io, Professor Jackson. La ringrazio.